La fondazione OneSight Essilor Luxottica Italia e l'agenzia per la prevenzione della cecità IAPB Italia Onlus hanno lanciato il progetto Ci vediamo a Corviale con l'obiettivo di creare la prima area urbana libera da problemi visivi in Italia. L'iniziativa della durata di otto settimane prevede visite oculistiche gratuite e occhiali da vista per i residenti del quartiere di Corviale a Roma individuando quelli fragili in collaborazione con ottici qualificati Visalmo Uraghe e Viganò, Grand Vision e altri ottici romani. L'iniziativa meritoria da parte di Fondazione Luxottica coadiuvata dallo IAPB che effettivamente si propone di dare una risposta in termini di visite oculistiche, di dianeo, di patologie ma anche di somministrazione e di fornitura di occhiali a tutta la popolazione di un quartiere di Roma. Fondazione Lietti in questo contribuisce fornendo il servizio medico l'assistenza di secondo livello a tutti i pazienti in cui sarà riscontrata la necessità a punto di dover fornire un'assistenza di secondo livello. Il progetto mira a ridurre il divario delle opportunità offrendo visite oculistiche e ausili visivi alle persone svantaggiate. La Fondazione One Sight e Silor Luxottica Italia che si pone come obiettivo di eliminare i difetti visivi non corretti entro il 2050 ha collaborato con IAPB Italia Ollus che si occupa della prevenzione della disabilità visiva e della riabilitazione visiva degli ipovedenti. La prevenzione visiva innanzitutto serve a proteggere i cittadini italiani da una delle calamità più gravi che è quella di vedere ridotta o addirittura di perdere la propria capacità visiva. Qualcosa che in età infantile provoca disorientamento, dolore, smarrimento per le famiglie e in età avanzata, in età adulta, tra gli anziani, provoca shock che addirittura possono essere paragonati alle malattie più gravi come l'Alzheimer, eccetera. E noi, proprio le persone non vedenti e ipovedenti, ci siamo proclamati, autoproclamati, testimonial di queste campagne di prevenzione visiva perché i cittadini possano più facilmente comprendere che cosa non deve accadere a ciascuno di loro. Perché la prevenzione significa avere l'attenzione a farsi controllare, a farsi visitare almeno una volta all'anno. e oggi con questa iniziativa stiamo segnando un punto di grande civiltà e di grande rilievo sociale, cioè stiamo avvicinando la prevenzione anche alle persone che hanno meno mezzi, meno possibilità e che quindi forse tendono anche involontariamente a trascurare di più quegli elementi del benessere sociale e individuale. Senza la vista si fa fatica, molta più fatica a vivere e quindi chi ce l'ha la conservi, la risparmi, la rispetti e ami i propri occhi. Il progetto ha ottenuto il patrocino di Camera dei Deputati, Regione Lazio e Municipio 11 e ha visto la collaborazione di numerose associazioni sul territorio. All'inaugurazione del progetto presenti diverse autorità, tra cui il Sottosegretario di Stato per la Salute, l'Assessore Servizi Sociali, Disabilità Terzo Settore e Servizi alla Persona della Regione Lazio, l'Assessore Grandi Eventi Turismo e Moda di Roma Capitale, il Presidente Undicesimo Municipio di Roma Capitale e il Presidente del CONI. Ci vediamo a Corviale, è un progetto congiunto della Fondazione One Site Testi Rolux Ottica e IAPB, l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, dedicata ai residenti del quartiere Corviale. Per due mesi, maggio e giugno, offriremo loro un programma di visite oculistiche e di occhiali da vista a chi ne abbia bisogno gratuitamente, così da rendere corviale la prima area urbana italiana illiterata da problemi visivi. In questo creando un vero e proprio circolo virtuoso della vista in collaborazione con i medici oculisti del Ospedale Umberto I di Tor Bergata e della Fondazione Betti, che prenderanno anche in carico le persone alle quali avremo individuato delle patologie oculari da approfondire. Al tempo stesso lo facciamo in collaborazione con gli ottici di Gran Vision, di Salmorechi e Viganò, i principali ottici romani, che realizzeranno gli occhiali. In questo modo concretizziamo la mission della Fondazione One Site Testi Rolux Ottica, che è quella di far sì che tutte le persone al mondo possano vedere meglio e quindi vivere meglio. Al prossimo episodio